Ciao a tutti, welcome back, io sono Ria Shuffle e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono ritornata nel canale con un video a tema, fra virgolette, viaggio. Sono dei luoghi che ho visitato e ovviamente non ho fatto cos'è, un minuto e dieci di video, però erano zone bellissime, poi nell'ora del tramonto è stata una cosa fantastica e vorrei portare sempre più video, anche che durano di meno, però veramente con dei paesaggi fantastici. Se volete trovare altre foto c'è il mio profilo Instagram, di Ria Shuffle appunto, che vi metto qua. E veramente meritano tantissimo questi paesaggi perché sono fantastici e molto spesso appunto non ce ne accorgiamo di quelle cose che abbiamo. E buona visione! E buona visione! No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go To my shadow, through the 싸 We'll go